Il castello di Nazano Passato nei secoli di famiglia in famiglia, giunse nel 1613 nelle mani dei Mezzabarba, conti pavesi che lo convertirono da fortezza in maniera. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi. Il castello ha subito radicali restauri e fu nel 1905 definitivamente destinato a dimore desidenziale. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi. Nel 1712 l'edificio fu rivenduto agli attuali proprietari, i Marchesi Rovereto, che riferirono l'assetto per come lo possiamo ammirare oggi.